Allora come si può vedere siamo a Como all'arrivo del Giro d'Italia e adesso facciamo vedere un po' quello che facciamo oggi, principalmente goderci una bella giornata di ciclismo. C'è un delirio allucinante ma abbiamo già un grande risultato, un grande risultato, la prima borraccia, la prima borraccia del Giro d'Italia, prima borraccia del Giro d'Italia, poi è arrivato Tommy raga miracolo, ci siamo, c'è tensione, Tommy è l'unico che ha la foto sul pass, non si è ancora capito come mai, per il pullman devi far la C, pullman della Bora, qui praticamente ci sono tutti i pullman delle squadre dove i corridori dopo la tappa vengono a farsi la doccia e lavarsi quanti watt stanno già facendo questi rulli? Tim Mineos sono stanco solo a guardare i rulli ma non ce n'è anche i frutti questo è il pullman della UAE Tommy faccio un recap il recap è che ha fatto fare a roglie non è così in posizione oggi, però io ho deciso di provarla lo ha fatto fare a roglie non è così in posizione mi ha fatto fare a roglie non è così in posizione oh si è staccato come la previsione di tommy tommy avevi detto che si staccava non si è staccato a bucato bustata di libari bustata di libari senza senso trasferta vai vai nell'ospitality che vedi bene guardate la verità guardate la verità dai vincenzo fai scuola fai scuola fai scuola